Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di il misterio alchemico, la leggenda di Praga L'ho tradotto in italiano fatto prima, se no se lo dicevo in inglese me lo sarei scordato sicuro Noto adesso che qui c'è una freccia che indica di andare di là Che sia un aiuto Oh questo l'avevo visto, il corrimano delle scale sono spesso decorati con delle sfere ornamentali Assomiglia a quel quadro che c'è sul camino Interessante, va bene non vedo niente da fare di particolare qui Prima di andare di sopra, allora prima di andare di sopra devo andare di qua Credo eh, si Scusate ma Oh sono tornato in camera, bene Cosa gradita Non so perché proprio qua ma Vediamo se posso fare qualcosa No, ah non mi da proprio niente da fare quindi non posso fare nulla qui Andrei a vedere se posso aprire, qui non mi fa fare più niente Questo, vediamo un po' cosa ci dice anche la mappa Oh, interessante, non avevo notato che ci fosse Si deve uscire della stanza questo ok, l'abbiamo letto Allora, ho trovato uno strano punto in casa e sul contenuto mi spaventa Chi è questa ragazza e cos'è questo amuleto di cui ha scritto il signor Sfrazzo Negra Non è Sfrazzo Negra ma uguale Va bene, ho capito che non ho capito un cazzo Quindi come al solito andiamo pure avanti Una key Anna, Anna è questa donna Perché l'ha detto lei, questa Anna è la chiave Quindi si Non c'è niente da fare, presumo Così a naso Dunque Punto schermativo cos'è Al momento Tutta roba di al momento L'unico posto è qui Andiamo un po' Ecco Esattamente qua c'è qualcosa da fare Ma non ho idea di cosa Non mi fa interagire notando un po' le cose in giro A meno che Non ci sia un mattone da spingere ma Mi sembra quanto improbabile Allora, qui non c'è niente Ne sono abbastanza sicuro Proviamo qua Qua c'è qualcosa Qualcosa da fare Una maschera Da fare, sì Ma la maschera non la trovo Questo è il Dice che sono sicuro che qui E proverò a usare l'aiuto Ma guardate voi C'è Un libro Perfetto, il numero 4 Beh, almeno adesso così In effetti Non è che si noti proprio bene Quando dobbiamo fare qualcosa Oddio Che inquietudine Eh, no Era di qua Non me le sto facendo tutte Sì Eh, libro E vai Oh, interessante Oh, interessante Bene Abbiamo sbloccato questo Andiamo a mettere la maschera Benissimo Ottimo Mi piace quando le cose Cominciano ad andare verso il giusto Mamma mia Che inquietudine Salve Eh, sì Esattamente che succede Oh Questo sì che inquietante Ok Vediamo un po' Pezzo di puzzle E dove va questo pezzo di puzzle? No, perché Fammi capire qualcosa A meno che Perché qui ci sono dei Bagliordi Qualcosa di strano Allora Vorrei capire Esattamente Cosa è cliccabile Cosa no Ma Non è che sia facilissimo Eh Allora Andiamo un po' E il pezzo di pa A meno che Non sia Effettivamente Questo coso qui Che lui mi aveva detto Prima Se ricordate Mi manca una sfera Sembra che mi serve Ancora Una sfera Quindi Se io faccio così Esatto Oh, cazzo Quindi Ah Ho capito Istruzioni Riempio una riga O una colonna Di sfere Dello stesso colore Per far sparire La sfera Non deve rimanere Nessuna sfera Quindi io ho preso Lo stesso colore Che io l'ho messo Qui a caso Strano Non mi sembra Dello stesso colore E non posso fare nulla Va bene Andiamo pure indietro Quindi mi serviranno Un bel po' A quanto Sembra Qua ritorno Nella mia stanza Chiamiamola mia Chiamiamola stanza Però si Ragazzi Sinceramente Sono un po' Perché non ho ancora capito Dove devo andare Cosa devo fare Perché Ho un po' Di cose Da Ah Qui la scala Ma anche i pioli Certo non glieli posso dare io I pioli A meno che non vuoi mettere Questo Ma non penso proprio Chiavi da aprire Qualcosa Non ne ho Cioè Il posto dove posso andare Le chiavi Non ne ho A meno che Non vuoi Metterla qui Non penso Però l'ho occhiata in giro Mentre l'anno non c'è Forse scoprirò qualcosa Di veramente importante Il signor Sui spazi Buonmaker Qui Però Non c'è proprio Niente Che io possa fare A sto punto Mi viene da premere Dice che devo andare Di qua Ma qua cosa A meno che Non debba usare Qualche item Di qualche tipo Su qualcosa Ma non penso Ma io qua Sono andato prima Non ho niente da fare Ah Ho capito Così Adesso ho compreso Scusate ragazzi Sono un po' Tardio a capirlo Va bene Adesso ho capito Ho capizionato tutto Facciamo così Facciamo Eh no Non posso farlo ancora Un blu Dove posso trovarlo Dice che devo fare Una colonna O una striscia Perché qui Il blu Non ne ho più io Ripara una colonna Di sfere Una colonna Queste sono righe Queste sono colonne Ok Quindi verticalmente Va bene Se è verticale Non c'è problema Facciamo così Facciamo così Poi facciamo Così 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 Perfettico Ok Sì No Quindi righe o colonne È uguale Per lui Vediamo un po' Eccoci qua Ottico Adesso Come facciamo Non ho capito Un cazzo Però va bene Facciamo finta Che ho capito Come giocare E sono stato bravo Wow Interessante Wow Per essere nella Bella questa serratura Mi piace Volevo anche In casa mia Ok Ma Sono un po' Interdetto E qui ci rimane Sempre qualcosa da fare Però non ho bene Capito cosa Va bene Vediamo il diario Se mi dice qualcosa No non mi dice niente Va bene Io Andrei Però vedete che c'era la freccia Che diceva di andare di qua Forse proprio qua Devo andare Oh cavoli È uno studio Oh porca 16 oggetti Perché questi sono scuri E questo non l'ho capito ancora Ho capito quelli blu scuro Che sono Composti Forse questi sono nascosti Lucertola Oddio inquietante Vaso di argilla Vaso di argilla Oddio questo cagnolino È puccioso Ma insomma Non so Non so quale sia il vaso di argilla Tubatura Beh tubatura dovrebbe essere facile trovare Ok andiamo avanti Vaso di argilla e tubatura Il resto non è niente accessibile Sono un calice Vaso di argilla Ah ok Un bisturi Beh il bisturi dovrebbe essere facile Questo Questo Poi Un anello Allora bastone da passeggio Questo Tubatura Non ne ho idea Vediamo cos'altro c'è Ghiande Una ghianda Mi sembra dove l'ho vista Più o meno Questa No non era questa Va a capire se sono quelle disegnate O sono effettivamente delle ghiande Non Qui Poi di ghiande Ok Poi Anello con rubino Suppongo che ci sia l'anello E il rubino da qualche parte Il rubino Il rubino Sarà utile che lo trovi Non si aprono sti cassetti No sono decorativi Questa è una lente Questa è una siringa Niente Una tubatura Non ne ho proprio idea di dove sia Sinceramente C'è un cacciacazzi qua Questo non so cosa sia Questo è uno sacchiotto Questa è una Una bottiglia di qualcosa Io la tubatura non la vedo Questa è una ruota E No Non vedo tubature Sarò un po' cieco io Cava tappi Anello con rubino Allora Il cava tappi Eh va a capire come è fatto il cava tappi Qui Se è quello a corda A spirale Oppure quello lì Proprio stapa bottiglie Anche se dubito Che ci fossero il tempo Eh 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 Sinceramente non lo so Forse qui No Questo è un cuore Non penso sia Io non lo vedo Allora Il Meno che non sia qualcosa di disegnato Per terra Una gamba di una sedia Uno sacchiotto Eh In effetti non trovo un cazzo Un pennello Un calice Qualcosa Un teschio Eh no Non vedo niente Eh ragazzi Non lo vedo Che ci posso fare Proviamoci Ah vedete E questo È una meccanica Che ancora Non ho fatto mia Praticamente Usare Gli item Con Quando c'è La situazione Di hidden object Eh questo Non lo sapevo proprio Non l'avevo ancora capito Vediamo un po' Adesso Di cose Ecco vedete La roba Che era grigia Adesso comincio a capire La roba che era grigia È effettivamente Roba nascosta Che dovevo In qualche modo Interagire Per poterla sbloccare Adesso Comincio a capire un po' Le meccaniche Bussola Il Tubatura Sarà sicuramente Qua Qua L'ingrenaggio Il Caratapi Ok Anello Corrubino Presumo sia questo A sto punto Perfetto Adesso Incominciano A funzionare Le cose Fazzoletto Il Fazzoletto È questo La conchiglia E No Questa è Un'anella conchiglia Ma è un'altra cosa Questa è la conchiglia Il burguro Il ragno Non so dove sia Anche se Effettivamente L'avevo visto Però non lo vedo Ok Vabbè Non importa La ruota La ruota che sia questa Va a cagare Questa non è la ruota Un ingrenaggio Ah ecco Un ingrenaggio Tazza dorata La tazza dorata Penso sia questa Un calice Ok La ruota Va a capire Cosa intende lui Per ruota Potrebbe essere anche questo No Non è questo Ok La ruota Non so al momento Dove sia Quindi Pistola carica Qui c'è la pistola Però il proiettile Effettivamente Eccolo qui Vai Pistola carica Perfettico Questo è quello Da dentista La ruota Tubatura Ragno Ragno qua La tubatura E sarebbe interessante Trovarla Questa tubatura Ma Al momento Non la vedo Non la vedo A meno che non sia qui Questo No questa è una pompetta Questa è una chiave Non la vedo Ne ruote Ne tubature Allora È Molto complesso Rispetto all'altro Devo ammettere Purtroppo Devo usare gli aiuti Se no sto qui Una vita esagerata Cioè Questa è la tubatura Sì ma se mi traducete Anche da cazzo Io dopo le cose Non le trovo Quindi ruota Potrebbe essere Qualsiasi cosa Una sfera Qualcosa Che gira Potrebbe essere Qualsiasi cosa Visto la traduzione Di quella Cosa di prima Mi aspetto Qualsiasi cosa Cosa potrebbe essere Una ruota Come Questa Eh Questa è la ruota Ok Quella in effetti È una ruota Da carrello Ruota Dell'armadietto Quale armadietto Oh porca Mi fa caccare in mano Questo gioco Ok Qui c'è qualcosa Dietro l'armadietto Potrebbe essere Nascosto Qualcosa di importante Non posso Spostarlo Perché manca Una delle sue ruote Che abbiamo trovato Va bene Oh Interessanto Una Un fiorino Clicca per continuare Uno spadino E Va bene Beh Interessante Sicuramente Il gioco è molto Non riesco proprio A capire Cosa sia Stato dipinto Su questa mappa Antica Ma è tutto antico Questa casa Secolare Antico Eccetera Sì in effetti Non si capisce Una mazza Uh Ancora uno Va bene Lo troverò Sicuramente Qui c'è qualcosa Devo stare attento Perché non è capibile Proprio bene Qui si può andare Qui si può andare E qui Qui c'è qualcosa Che biblioteca Magnifica Madonna C'è un due libro in corso Vorrei poterlo leggere tutto Eh ma tu sei un po' Curiosa Va bene Alcune di queste Fiale Sono pieni di strane sostanze Sarebbe davvero Sciocco Da parte mia Aprire Senza sapere Cosa contengano Sì in effetti Lo sarebbe un po' Da stupidi Però Sapere anche Cosa c'è Un antico Un dipinto antico Con una veduta Da Praga Di Praga E acqua quella No Una strada Con un calesso Un carro Leggere volentieri Alcuni di questi libri Eh abbiamo capito Che piace leggere Va bene Sì Un emisfero Un globo antico Con una mappa Della costellazione Ma tutto antico Questa casa Qualcuno ha Ha rovinato Il dipinto Per sbaglio O di proposito Mi domando Perché Il signor Sfatonegre Non abbia Rubato O rimosso Restaurato O rimosso Non so che non è Sfatonegre Ma non mi viene in mente Come si possa pronunciare In modo Diciamo Consono Va bene Dopo Questa cosa Direi che Possiamo anche andare Da altre parti Vediamo la mappa Cosa dice Soprattutto cosa c'è scritto Qui Prima che mi sbagli E non Salti qualcosa Ho esaminato lo studio Pare sia Quello Del signor Sfat Qualcosa Lì dentro Ho visto Delle bottigliette E dei libri Di alchimia Oltre a questo Ho trovato qualcosa Che posso utilizzare Per rimuovere Il pannello E credo Di aver capito Cosa Cercava di mostrarmi Il fantasma Ah il pannello Della stanza Dice Esattamente con cosa Lo posso rimuovere Col fiorino Con lo stocco Come si chiama Sto coso Non lo so A questo punto Mi fai venire Tutto Non funziona Devo prima Riparare i fili Ma Non Mi servirà Del nastro isolante Per riparare i fili Non ce l'ho Il nastro isolante Vediamo Cosa dice All'orologio Mancano due Sì ma E' un caso disperato Sta casa Manca di tutto Oh cazzo Mi sono preso un colpo Eh sì ma io Non capirò mai Cioè in teoria Questa va qua Ok E questi Muoveranno Gli altri Va bene Niente Ah questo va sempre avanti Ok Andiamo pure indietro E ok Oh qui c'è qualcosa A cosa servirà A signor Una bilancia Così strana Con questi pesi Oh interessante Un martello Bene Interessante Un martello Da più chiare In testa qualcuno Presumo Allora Non è che sia molto chiaro Cosa devo fare Oh un libro Ci sono libri Di alchimia Magia Filosofia Storia Forse signor Era solo un collezionista Oppure si interessava Anche alla scienza antica Sempre le stesse cose Giusto qui Si può aprire All'infuori Dei suoi libri Il signor Svazegels In libreria Aveva una varietà Di Da laboratorio Una vetreria Da laboratorio E delle fiale Piene di polveri Mi domando Se conducesse Da qualche genere Di esperimento Se conducesse Un qualche genere Di esperimento Sarebbe utile Scoprirlo Non vedo Nient'altro Posso anche andare Di qua Qui abbiamo già visto Tutto Io direi che Provo a tornare Nella stanza E vedere se riesco Effettivamente A far qualcosa È la mia stanza Oddio in cui Tante come pochi È qua Quindi io devo andare Di qua Ancora di qua E usare Questo Qui Si Perfetto Perfettico Vai Quante ragnatele Quanti ragni Interessante Sono andati via Appena sono Ho aperto Nel mio Orfanotrofio Avevo uno Scompartimento Segreto Simile a questo Ci tenevo Tutte le cose Importanti Devo utilizzare Qualcosa Per rimuovere Le regnatele E esaminare La cavità E dacci Una soffiata Cosa posso Utilizzare Non penso Un ombrello Così a naso Cazzo di pazzo Neanche Uno spolverino Ok Vediamo un po' Cosa c'è all'interno Interessante Perché istruzioni Trova nella scena Tutti gli oggetti Sull'elenco In basso Gli oggetti colorati Ecco finalmente C'è qualcosa Una spiegazione Gli oggetti colorati In blu Richiedono Un passaggio Aggiuntivo Per essere completati Gli oggetti colorati In grigio Sono nascosti Da qualche parte Ricorda che alcune parti Di oggetti Potrebbero essere Nel tuo inventario Ecco questo Ve l'ho saputo prima Sarebbe stato A quanto ottimo Dunque qui A quanto pare Non c'è niente di grigio Donna più ombrello 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 Sono più che sicuro Di avercelo io Oh finalmente l'ho usato Ed è Una cosa buona Poi Tavola Oh Già Non era quella Che Per vedere gli spiriti Eccetera Questa Esatto Questa è la tavola Però lui vuole Il pezzo mancante Che io non dovrei avere No Non ce l'ho io È un qualcosa È una specie di pietra Un Però non so proprio Dove sia questa pietra Non la vedo In questo momento Non la vedo Va bene Faremo Inutile stare qui Oddio Inutile stare qui Allora Tricchieco Il trichieco è quella specie di foca Che Che sia questo Sì è questo Fiore Un fiore Un pezzo di puzzle Guardate L'ho guardato L'ho visto adesso Eppure Eppure sono sicuro Che sia questo È diverso Evidentemente Va bene Scusatemi Punteruolo Punteruolo Tipo quello del ghiaccio Questo Ok Il fiore Non so dove sia Che sia questo No Non è questo Questo fiore Ok Questo è un fiore Un papillon Il papillon L'ho visto prima Era Forma di papillon In effetti Però non lo vedo più Eccolo Provato Cavoli Papillon Clown Pagliaccio Ok Il papillon Chissà dove l'ho visto Chissà cosa ho visto Soprattutto Va bene Coniglio rosa Non vedo neanche il coniglio Io Figuriamoci l'ho Eccolo qui Rosa Vuol dire che lo posso dipingere Ma non vedo Penarelli Eccolo qui Perfetto Con l'inghietto rosa È andato Questo è rimasto Papillon E tubetto Il tubetto Non è questo Ma deve essere Qualcos'altro Questo Perfettico Adesso Fiocco di neve Fiocco di neve Col cristallo Però Questo E questo È una stella Allora Non so dove sia Il fiocco di neve Allora Andremo avanti Che è meglio A meno che non sia un cristallo Da qualche parte Non lo vedo Questi No Non penso Ragno Facile Poi vediamo un po' Che viene fuori Trifoglio Ho visto anche quello Altro La caramella La caramella Sarà Sono caramelle quelle La caramella intesa Oh il papione Eccolo qui Ce l'avevo sotto il naso Eh ragazzi Non Credete Questa maschera Inquitante Qui c'è qualcosa Però non Non fa prendere Allora Punta Da disegno Questa Esatto Dadi I dice Dove sono È questi Ok Fiocco di neve Ancora Non so dove sia Il portafogli Portafogli Questo No Beh Non c'è rimasto Tanto Insomma Alla fine Potrei anche Trovarlo Volendo Se non fossi così Incoglionatico Non lo trovo Va bene Salto Scarabeo Scarabeo Questa è la fatina Porchina Scarabeo Questo E da me Desilito Non vedo Questo Eccolo qui Perfetto Portagioielli Sembrerebbe questo O questo E qui Chi ci mette I gioielli Normalmente A meno che non sia Qualcosa di diverso Un portagioielli Un portagioie Questo Oh cavoli Vediamo il filmato Wow Interessante Una combinazione Una caccamella Non so dove sia La caccamella A me sembrano queste caramelle Però A meno che non sia questa Nell'occhio Neanche quella Questa Oh io ste caramelle Non le vedo Non so voi Io non ne vedo Dove siano Queste No O le cliccate tutte ormai Vabbè Fiocco di neve Non lo so La stella La stella La stella Una stella Qui Oh sì Era questa Questa è il fiocco di neve Eh figuriamoci La stella E questa Ok E la caramella Non ho In via di cosa intenda Con caramella Eh era questa Perfetto Ho trovato tutto Ecco Questo qui E' il portagioielli Vediamo cosa mi dice Esattamente Attenzione con le antichità Ho fatto un alciment Va bene Interessanto Qualcosina Non mi ricordo mai La pagina in cui sono Ho esaminato lo studio Pare sia quello Del signore Lì dentro Ho visto delle Bottiglie E dei libri Di alchimia Oltre a questo Ho trovato qualcosa Che posso utilizzare Per rimuovere il pannello Credo che Di aver capito Cosa cercava di mostrare Il fantasma Va bene Non è che tu hai capito qualcosa Perché io non ci capisco Il cazzo Sembra che il fantasma Mi abbia indicato Il pannello Per Per un motivo L'ho rimosso E ho trovato Al suo interno Un portagioielli Con le immagini Di un drago E chiuso E per aprirlo Serve una combinazione Devo trovare qualcuno Che mi aiuti Ad aprirlo Eh Chi lo fa vedere Allora vediamo un po' Cosa ci dice Cioè la mappa La mappa Al momento Non ci dice niente Di che Perché la V Dovrebbe essere Roba finita E adesso non mi ricordo più Qui sono stati Come da tutti gli obiettivi E quindi L'unico posto è questo Ma io qua Non ho idea Di cosa fare Oddio Che inquietudine Anna Potresti Perfetto Mi chiedere Di dove Posso trovare Un'antique Shop Ho Un'antique Che Voglio Un'antique 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 Spero Posso Posso Un'antique Special Oh Grazie Per La Ma Mi Mi Ok Vediamo Un po' Cosa Si dice No La mappa Il diario Credo di essermi cacciata Nei pasticci Anna ha mostrato Un grande interesse Per il portagioielli Quando gliene ho parlato Però ho deciso Di non darle Ciò che ho trovato Vedrò di Arrangiarmi Da sola Anna mi ha Insospettito Dopo che ho trovato Un appunto In casa Già In effetti Sembra che Il fantasma Mi abbia Indicato Il pannello Promotivo Si ok Questo l'ho già letto Va bene Quindi 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 direi Che ci possiamo Anche salutare Per questo video Tutto Così capiremo Bene cosa fare Qui Perché qui Non c'ho Quello che Capito Una mazza Effettivamente No Non c'ho Quello che Capito Un cazzo Quindi cerco Di capire Un po' Cosa fare E andremo Avanti Comunque La storia Mi interessa E' Bastante intrigante E' Misteriosa A tratti Bene Io vi invito A lasciare un like Comment E fammi sapere un po' La vostra E per adesso Vi do un saluto Da Shiba Ciao ciao Ciao